Grazie a tutti 1, 2, 3 Volevo ringraziare tutti gli associati che sono intervenuti oggi qui in questa assemblea elettiva Sono orgoglioso di poter rappresentare la FIPAV Napoli Susseguo al Presidente Cavolongo che per 12 anni ha guidato con tanta passione e dedizione questo comitato Voglio che la federazione sia la casa di tutti Voglio che tutti partecipano alla vita attiva della federazione E il programma che con molto orgoglio insieme ai consiglieri eletti che abbiamo portato avanti Sia sicuramente trasparenza, attività di ripresa dopo il Covid, beach volley, sitting volley, riforma dei campionati Grazie a tutti Grazie a tutti